Nell'ambito dell'operazione Talis Pater, la Digos della Questura di Milano e di Como ha arrestato per associazione con finalità di terrorismo un 51enne egiziano residente nel Comasco. E' spiccato il mandato d'arresto anche per il figlio 23enne, latitante, che si troverebbe in Siria. E' stata rimpatriata invece la moglie dell'uomo fermato una cittadina marocchina. Sarebbe stato il padre, che in passato ha combattuto in Bosnia, a radicalizzare il giovane figlio spingendolo perché si impegnasse per la causa jihadista. Grazie a tutti.